Ma siamo partiti, porco Dio! Scivola, cioè... Ho visto lui saltare da una patata! Cioè, mi sono proprio... Che vera! Che non avevo neanche il tempo di guardare dove cazzo stessi andando! Troppo... Questa scivola un po', eh! Minchia, bello! È partito il trenino! Zucca Bianca! Il Cayman davanti! Gianluca Vernasso, prima volta finale! E sto scemo di cello, senza mani! Mi sa che ne vedremo delle belle! Se ne pietraio in arrivo! Esatto! Oh! Eh! Eh! Ma comunque c'è un buon ritmo, eh! Ehm! È anche il treno il treno del tempo, eh! Ehm! 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 intanto cielo prova a fare qualche esibizione sui salti guardatolo lì si è offeso l'anno scorso quando gli hanno detto che non sa saltare anzi se lo diceva anche da solo era troppo a tutta ci sta prendendo un po troppo gioco con queste con questi salti cello nuovo pezzo di ca bianca non so se l'avete mai visto per nantini e terra più morbida è molto divertente qualche switchback vai john il piede per lui si ciao 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 Cosa fai? Vai Caiman! Vai Caiman! Quasi dritto! Pedala! Ma dove cazzo vai? Sempre in emozione seguirti Caiman! Oh Dio 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 Dio! Questa qua è buona eh? Questa è forte! Questa è la guardia rifatta nuova tutta la prima parte dopo le tempeste di fine del 2019. Prima volta che la facciamo, anche qua, ho lasciato tutto. La terra è ancora un po' morbida però, gran lavoro, complimenti a tutti i trail builder che lavorano qua, che ci hanno lavorato e che lavorano in quel di Fianelligure per permetterci di girare in questi sentieri. Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! Sì, grazie! Qua, a fine del Ligure! In trasferta! Wow! Inside! Cosa dici? Sì, grazie! Sì! 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 Ciao